Il Jarre 1946 prende le distanze dalle accuse di razzismo formulate dal Pistunina all'indirizzo di uno dei componenti della Rosa. Comincia così il comunicato stampa della società gialloblu in relazione alle accuse del difensore della squadra messinese Keita, espulso nel finale della gara giocata lo scorso primo novembre, in merito a un presunto insulto a sfondo razziale lanciatogli da un avversario. Il presidente gialloblu Nirelli ha dichiarato come il referto arbitrale formulato dall'arbitro, rappresenti la prova delle straneità dei giocatori del Jarre relativamente ai episodi del genere, sottolineando anche la condotta non irreprensibile dello stesso Keita, squalificato appunto per sei giornate. Tornando a discorsi tecnici, domani gli etnei sono impegnati in trasferta contro l'ostico Camaro. I messinesi sono reduci da quattro vittorie di fila e occupano il sesto posto in classifica proprio in condominio con il gialloblu. Simone D'Arrigo non sarà della partita, con Salvo Messina che dovrebbe invece partire dalla panchina. Peserà invece l'assenza del centravanti Carbonaro, squalificato per una partita. Una defezione pesante, come commenta ai nostri microfoni, mister Peppe Mascara. Guarda, purtroppo sappiamo tutti com'è andata per la squalifica di Carbonaro. Ormai è andata così, non ce li piangersi addosso. Per noi è una perta importante, soprattutto a livello di uomo, perché è un trascinatore, uno che lotta, corre, anche se è stato fuori per parecchio tempo. Però adesso ce l'avevamo al 100%. Però purtroppo l'unico rammarico è perché altri ragazzi si sono integrati al gruppo in questa settimana, quindi fa un po' di fatica. Però abbiamo anche altri uomini che possono sicuramente rimpiazzare Carbonaro. Grazie a tutti.